La nuova D'Arsena Europa è sempre più vicina, il cronoprogramma va avanti a ritmo serrato e nella sede della Regione Toscana si è riunito il nucleo operativo con il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, il Presidente dell'Autorità Portuale Alto Tirreno Stefano Corsini, il Comune di Livorno, RFI Rete Ferroviaria Italiana e le Direzioni Regionali di Mobilità e Ambiente. Entro la metà di settembre sarà pubblicato il bando per assegnare l'incarico della progettazione della parte pubblica dei lavori per la D'Arsena Europa. È un incarico per la progettazione di un'opera intorno a 260 milioni e così ci è stato promesso ma io confido in questo lavoro entro il mese di settembre verrà appaltato ad un'impresa l'incarico di fare i sondaggi sul porto per capire la situazione per le future progettazioni. E poi abbiamo fissato non nella prossima ma nella settimana che verrà un incontro con RFI per decidere definitivamente i problemi relativi alla partenza dei lavori per lo scavalco e alla sistemazione dell'infrastruttura ferroviaria sul porto. Abbiamo parlato di ferrovie che sono una parte importante di questa infrastrutturazione che non è soltanto la D'Arsena ma la D'Arsena in sé senza tutti i suoi collegamenti ferroviari avrebbe una potenza molto più limitata di quello che potrebbe avere. Quindi al momento siamo nei tempi e andiamo avanti senza scossoni. Il presidente Rossi ha tracciato quindi una roadmap per riuscire ad avere il progetto esecutivo della nuova D'Arsena in Europa entro l'anno e l'avvio dei lavori entro la metà del 2018. Un calendario dei tempi molto stretti rispetto ai quali il presidente Rossi ha comunque invitato ad accelerare il più possibile. Grazie a tutti.